Ciao a tutti che sono tutti e benvenuti in questo nuovissimo video della Wayworld Wonders, signore e signori io ho utilizzato il libro delle coordinate e ho visto che la prima coordinata in realtà è una zona molto vicino a casa mia si tratta delle coordinate meno 600 meno 600 più o meno vuol dire che devo correre in mezzo al deserto circa più o meno dov'è quella piramide dal contrario e poi girarmi verso destra, anzi no, verso sinistra, sì verso destra e continuare in questa direzione ora spero di non incontrare perché ho lasciato il libro a casa volevo evitare di morire e perdere il libro visto che comunque è da questa parte non è da questa parte non è un libro esattamente economico diciamo che costa quel che costa se morissi e perdessi il libro potrebbe essere un piccolo problema più caldo perché poi devo andare a cercare gli altri materiali ora mi sono anche altamente scordato di prendere quello cos'è? è un villaggio? ho visto un villaggio allontananza? ok ho paura di andare in un posto in cui sono già stato e se fosse così devo tornare poi indietro quello è il problema devo tornare indietro e prendere il libro e vedere altre coordinate oppure potrei fare uno screen sai che questa non era una brutta idea fare uno screen? cacchio sono un po' stupidello eh vabbè fa nulla 100 blocchi secondo il libro dovrebbe esserci cos'è sta roba attenzione ecco qua ottimo eh a posto ottimo qualcuno ha detto lana? oh madonna che cos'è sta roba cioè vi prego guardate è la morte sto coso bello screen per la copertina guarda qua anzi ti dirò di più ti cominci a farlo mamma mia guarda qui ehm ottimo signori beh direi che il libro delle coordinate si sta eh sta risultando utile in qualche modo comunque si io devo scendere ah su un villager ottimo eh se è su un villager scialla pensavo subito fosse pieno di mob e dovessi tipo morire male allora è un villaggio però abbiamo capito che in questo villaggio c'è una lana beh io direi che va esplorato il tutto ragazzi anche perché qua oltre alla lana vabbè che poi se c'è la lana ci sono per forza anche i mob non è che questa mappa mi regala niente questo l'abbiamo capito poco ma sicuro l'unica cosa che ci regala sono i minerali in caverna qui c'è un altarino chi è questo il sindaco? no è il figlio del sindaco ottimo oppure mini me con il mignolino così e ora a me è a vuoi che non sia di là la lana per forza di là la lana ditemi quello che volete ora esploriamo un po' questa zona giusto per essere sicuri che quanto sarebbe figo fare una cosa del genere in minecraftita? un ammasso di lava cioè ci metto 12 anni forse sì forse anche qualcosa di più di 12 anni e devo tipo svuotare il nether dalla lava però voglia sarebbe una figata pazzesca sarebbe una figata pazzesca intanto qui io sto osservando in giro là c'è della cobstone sto cercando di capire dove potrebbe essere il la lana bella domanda bellissima domanda dove potrebbe mai essere la vedo a casa del fabbro ottimo in tutto questo se io trovassi del cibo non sarebbe neanche una cosa brutta oh guarda c'è del grano vabbè non male posso farmi un del pane qua c'è un'altra cesta c'è un'altra cesta credibile c'è del pollo crudo ma lo prendo comunque perché a cibo non è che si è messo benissimo davvero cioè anzi sono messo piuttosto male qui c'è un ender pearl è un ender pearl buono anche il secchio di latte potrebbe essere utile non lo so magari c'è un wither c'è un po' di ansietta ragazzi posso dirlo va bene vediamo qua dentro il villaggio c'è qualcosa potenzialmente qualche c'è no nulla ottimo ottimo davvero grazie va bene qua c'è la casa del fabbro vuoi che non ci sia niente dentro pozione di respirienza music disc da armatura di diamante questa me la porto con il mio cavalluccio anche se è inutile però ce l'ho almeno va bene allora ragazzi io vorrei capire se c'è qualcosa di buongiornissimo qua è solo pieno di scheletri allora li lasciamo stare diciamo che secondo me l'ingresso di quello che sarà poi la lana secondo me è di là la lana secondo me è di là devo fare il giro anzi devo scendere prima perché si potrei sparare tutte queste casette ma siamo sinceri c'è effettivamente qualcosa di utile qua dentro potenzialmente no ah si sale ancora tra l'altro buon che non ci sia un'altra cesta infatti c'è un'altra cesta e questa potenzialmente sarà più utile pozione tanky uh c'è il pollo fritto pollo fritto raga il kfc ma che stai scherzando no ok ok abbiamo il pollo fritto tra l'altro io sono qui per non saperne leggere scrivere un paio di questi blocchi io li prendo li trasformo in legno ci faccio una crafting table così mi faccio i panini che mi mancano e poi ci faccio anche un paio di stichettini così mi porto a casa delle torce ottimo voilà ci siamo e poi prendiamola anche che non si sa mai può essere comoda ricordo tutti che ho delle delle pozioni in inventario quindi non male potrebbe essere interessante come cosa ora anche di lì potrebbe esserci qualcosa di interessante magari è una zona parkour per arrivare da qualche parte però il parkour a noi non piace quindi facciamo così anche perché è sabbia ma è sabbia in famella posso passarci sopra? o cado ma viene l'ansia cacchio diciamo così c'è un bel punticello e siamo tutti felici guarda qua allora difficilmente ci sarà effettivamente la lana alla fine di questo percorso però già se c'è una cesta molto bella con una spalla di diamante porca puttazza sali 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 non ce la fa ho una persona della cura? forse non mi serve voglio evitare di morire quindi starò attento e proverò a correre sulla terraferma prima di morire porca vacca porca vacca porca vacca porca vacca mangia 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 sono morto sono morto l'armatura di diamante è caduta lì porca puttana mi metti le sabbie mobili mi metti ecco sta pure diventando notte potrei non riuscire ad arrivare a destinazione in tempo qua mi potrebbe servire un cavallo prendiamo il cavallo dov'è il cavallo con la sella? ecco veloce non abbiamo tanto tempo sta facendo notte tra l'altro vabbè allora profittiamo per dormire se no mi contro i mob e poi so già che muoio è un casino veloce veloce dimmi te se la sabbia mobile dovevo beccare cacchio avrei potuto utilizzare una del delle pozioni che vengono in inventario ma molto sinceramente non pensavo di morire per la lava cioè quanto dura la bruciatura da lava porca vacca 23.000 secondi non vale non vale comunque quanto è lento sto cavallo non è perché io ho gli stivaletti sono un po' più lenti come la merda sti cosi comunque incredibile ho iniziato l'episodio dicendo avevo paura di morire e sono morto tra l'altro corri mamma mia ma quanto è lento sto coso la cosa positiva è che non ho perso fame nel fare ciò ora scendiamo con molta calma e andiamo a prenderci tutto ciò che è nostro non è l'episodio di Gomorra siamo noi che abbiamo perso quasi tutto il nostro inventario anzi tutto il nostro inventario e devo capire in che livello se dovuto tornare addirittura a casa a prendere cose oppure no ok dammi tutto ah qualcosa per forza l'ho perso ho visto che qui cadeva forse l'armatura di diamante del cavallo l'ho perso però le cose importanti dovrei ancora averle l'armatura ce l'ho il cibo ce l'ho la bussola ce l'ho certo non è importante la bussola avevo una mela d'oro sto stupido avevo la mela d'oro un botto di roba avevo oh male male potevo usare una delle pozioni solo che non pensavo di prendere così tanto danno sinceramente comunque stiamo attenti a sta cacchio di sabbia mobile cioè ci passi sopra la figa muore tutto facciamo così allora mi sa che non basta neanche la cobblestone che ho nell'inventario per fare un ponte fino a lì ah e lì la lana ma scusa così a caso e vuoi dimmi che non ci sono spawner qua vicino sei serio? ma non è vero mai nella vita guarda cade tutto lo sapevo io allora ho bisogno di altri blocchi usiamo il legno ecco diciamo che usare il legno sulla lava non mi sembra la migliore delle idee che abbiamo mai avuto in vita mia certo te lo sto dicendo che sono appena morto nella lava quindi magari di idee buone non è che ne abbia moltissime ecco qua oh 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 stai calmo stai calmo perché passo sopra la lava ma neanche sopra accanto succedono casini mi sta calmo ma allora lì che cosa c'è poi tra l'altro vabbè con calma con calma guarda che qua non c'è cobblestone dove prendere la sabbia e fare tipo sandstone è l'unica facciamo la sandstone che ti devo dire noi mancano tantissimi blocchi per arrivare però insomma non mi fido della sabbia mobile quindi facciamo sta sandstone 8 blocchi no 8 blocchi non mi bastano prendiamo un po' di questo ok 31 blocchi ma pure lo zombie ma cosa vuoi tu lascia stare il mio amico villager bufetto ecco la cosa come deve avere tanta lava è che puoi buttare tutte le cose che vuoi e bruciarle così non è più spazzatura io l'altro giorno mi sono per caso stavo pulendo la cucina e mi sono messo a ragionare su quanta spazzatura io devo aver generato nel corso della mia vita e non è poca ragazzi io ho 22 anni ma chissà quanta spazzatura ho generato e questa spazzatura dove è andata a finire bella domanda molta sicuramente è stata bruciata compattata non lo so però bella roba ok blocco di lana rosso c'è ed è stato anche semplice se non fossi morto cioè in realtà non posso dire che è stato semplice sono morto nelle altre lane non sono ancora morto capito sono morto quel che non ci sono i mob oddio vabbè è tutto dire ragazzi quando dico che la lana è semplice non è vero cioè è per dire a questo punto per curiosità però io voglio sapere cosa c'è dall'altra parte perché è vero magari non ci sarà la lana però secondo me è quello tipo di un diversivo per farmi pensare ah devo andare di là e poi invece pieno di mob o di morte sicuramente in queste casette ci sarà anche qualcosa per forza una cessa oppure niente oppure anche niente vabbè lasciamo stare le casette e vediamo cosa c'è qua allora sembrerebbe una specie di dungeon quello là in fondo io la lana ce l'ho già allora andiamo perché anche nel caso morissi di nuovo proprio male male anche se muoio per prendere un altro blocco di lana non ci vuole niente cheat comunque si questa è la strada iniziale invece invece qua non c'è niente poi alla fine ah se non la lava stiamo attenti ma scusa ma qua sono tutti slab ma dove spawnano questi bella domanda bella domanda diciamo che è un po' troll questa zona se non è un po' troll vabbè anche qua sono tutti slab non possono spawnare i mob sugli slab lo sai il creatore della mappa questo ma spero di sì comunque ci sono altri spawnerli io provo a salire vediamo cosa c'è qua so e più che altro è una lana cioè è anche la lana più vicina a casa nostra quindi ha senso che sia un po' più facile perché si pensa che sia da early game questo creeper magari mandiamola a quel paese grazie ora eh qui abbiamo uno spawner di creeper un creeper vai potresti anche esplodere ma non lo fare abbiamo delle ceste però la lana non c'è e qui qui ci sono degli spawner di scheletri ottimo però sono spawnati dalla parte sbagliata devono buttarmi giù nel dubbio esatto va bene carino eh carino il posto bella la vetrata enorme che dà sull'inferno della lava però per il resto è ah aspetta qua sopra cos'è un'altra strada c'è qualcosa sicuro qui c'è uno spawner di scheletri ecco questo è uno spawner di scheletri messo bene vai così bravo rompi tutto ora vediamo cosa c'è in questa cesta magari c'è qualcosa di utile un'armatura attenzione ebony helmet ebony chest piece leggings boots funzione dell'avventuriero delle bookshelf le prendo volentieri cacchio dobbiamo ricordarci che se troviamo delle librerie bisogna rubarle e la sedone la sedone non mi serve prendiamo tanto alimentare vuoto praticamente vabbè carino carino sto posto cioè volrei dire che è stato semplice ma poi sono morto quindi nel senso meglio se non lo dico sono una brutta figura se dico ah no è stato semplice cheat spawnato però scusa ah perché vuol dire che non possono spawnare i mob normali altrimenti si sarebbe un po' complicato perché senza torce se qui ci fossero anche i mob normali si sarebbe pieno di creeper e spawnerebbe lì sarebbe complicato ecco perché gli slab così di spawner funzionano ancora ma non spawnano tipo creeper a caso o scheletri o ragni o qualsiasi tipo di mob buongiorno signor creeper l'abislazuli vai via tutto uh attenzione attenzione ho visto una cosa potenzialmente interessante qua c'è una scaletta le scalette a casa mia portano nei posti belli oppure nella casa direttamente sotto nella casa ma che cazzo serve sta roba cioè perché vabbè lasciamo stare qua niente cesta niente cesta e io direi che possiamo anche tornare a casa esatto esatto che poi stavo ragionando una cosa ma in mancraft ita no è uscito ieri praticamente l'episodio di mancraft ita in cui ho riprodotto una parte di questo mondo no super vortice dell'acqua e ci ho messo tanto per fare una cosa di questo tipo quanti mesi ci vogliono ma soprattutto quante persone hai bisogno di un team intero per lavorare una cosa di questo tipo in vanilla ovviamente farlo magari in creative con i comandi non ci vuole oddio si ci vuole comunque tanto a fare una mappa di questo tipo cioè questo è un cratere con un villaggio cioè è bellissimo cioè prendetevi un momento per capire che cosa è stato costruito qui è una figata pazzesca speriamo ci sia ancora il nostro cavalluccio così magari possiamo anche tornare a casa senza morire è scomparso il mio cavalluccio si è suicidato? parca mi è scomparso il cavallo davvero si è buttato ho capito che era un cavallo stupido ma era comunque un cavallo sono senza cavallo ma dimmi te vabbè la cosa positiva è che ho gli stivaletti levati dal kaiser con gli stivaletti sono più veloce però ho perso un cavallo come si fa a perdere ah no eccolo ma quanto cazzo ti sei allontanato sei allontanato fino ma io non ho parole metà deserto praticamente ci facciamo la strada con il cavalluccio perché non ho voglia di lasciarlo qui potrebbe essere utile in situazioni in cui ad esempio muoio per colpa della lava come un nabbo soprattutto quando avevo un alimentare una mela d'oro ho detto cacchio cacchio no non voglio prendere la roba potevo mangiare la mela d'oro ci mettevo un mezzo secondo mangiavo una mela d'oro ero salvo invece va bene allora andiamo a casa devo piazzare questa lana rossa e dobbiamo capire se vale la pena perché allora a parte il dungeon che era quel che era non era chissà cosa e la lana sono morto lo ripeto quindi non posso dire che era facile però se non fossi morto sarebbe stato extra facile poi non c'erano neanche mob cosa si era un po' diciamo in parte nel senso se non me ne fosse accorto subito avrei potuto dire ma quindi dove cacchio è sta lana invece l'ho trovata quindi siamo a posto voilà approfittiamone dormiamo e ora lana rossa dov'è la lana rossa eccola qui la lana rossa boom dammi una bella cesta con dentro una spa attenzione spada reale regale sarebbe spada reale ho sentito un buongiorno buonissimo che mi dai per favore un enderpearl che sono comodissime grazie grazie c'è un looting sto coso c'è un looting vieni qua boom due enderpearl beh si diciamo che è un po' inutile cioè c'è un breaking 10 quindi durerà 12.000 anni e sharpness 2 però è comunque un po' inutile quindi lo lasciamo qua ottimo io devo fare un piccolo rifornimento di cibo però perché diciamo che sono un attimo in deficit intanto piazziamo anche magari piazziamolo bene sto coso ce l'abbiamo ma guarda mettiamolo tipo qua centrale tipo così no vabbè mettiamo questo qua allora mettiamo questi attorno così iniziamo a piazzare le cose con calma ci faremo una postazione di enchantment poi vedi come spacchiamo tutto cacchio per il momento ragazzi è tutto noi ci vediamo domani alle 7 con il prossimo episodio della serie delle 7 della wayward wonders vi ricordi di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video io vi saluto ciao a tutti a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.